Santa Margherita Belice, nella famosa Valle del Belice, raggiungibile tranquillamente da due aeroporti, Trapani o Palermo. Quello che vedete alle mie spalle è il famoso lago arancio che è utilizzato anche per le gare acquatiche. Quello che vi mostro è una proprietà di 14.000 metri quadri con 250 alberi d'olivo. Questo significa che questo olivo produce la nocellara del Belice, famosa in tutto il mondo per la bontà dell'olio d'oliva che riuscirà a rendervi. Ma non solo, oltre ai cactus da fico d'India e tutte le altre piante che ci sono in questa proprietà, c'è anche la possibilità già approvata con tutte le licenze del settore di fare proprio qui una casa. E questo ha anche un privilegio, cioè il fatto che ci può essere un rimborso da parte dello Stato proprio perché vi ricorderete che la Valle del Belice ha subito purtroppo quel fenomeno naturale nel 1968, quel terremoto. Per cui se volete costruire una vostra casa potrete avere una sovvenzione da parte dello Stato. La posizione di questa proprietà è strategica, comoda ma anche ricca d'acqua. Sapete che qui c'è acqua disorgente, qui siamo veramente in una bolla d'acqua, questa è una cosa importantissima. Si tratta di acqua praticamente oligominerale. E poi perché strategica? Perché a 15 minuti da qui potrete arrivare al mare oppure potrete arrivare all'eterno.